Nell'immediato post consiglio il consigliere di minoranza di Felice ha posto delle perplessità sul mancata approvazione del piano tarifario dell'Atari e la posizione dell'amministrazione non è assolutamente d'accordo? Beh una perplessità assolutamente infondata è frutto di un errore di scarso approfondimento della normativa perché il consigliere di Felice ha citato sentenze, ha citato leggi, norme, articoli però non le ha citate tutte, questo devo dire un po' al solito perché nelle sue ricostruzioni mancano sempre delle parti molto importanti, quelle a lui poi sfavorevoli. Non è assolutamente vero, è destituito di ogni fondamento il fatto che se non si approvano all'interno del bilancio le tariffe dell'Atari l'Atari non vada pagata dai cittadini, è proprio assolutamente falso, è stata un'affermazione anche grave perché suscita nei cittadini delle attese, noi l'abbiamo immediatamente smentito ed è anche un fatto smentito da una sua affermazione del consigliere di Felice nel 2015 quando era presidente del consiglio comunale che approvava il bilancio e lui stesso ha affermato ed è sulla delibera di consiglio comunale il fatto che se non si approvano le tariffe dell'Atari e le aliquote dell'Atari si pagano quelle dell'anno precedente. Quindi una volta lo afferma, una volta non lo afferma, quindi si contraddice anche pubblicamente e quindi mette nelle attese ai cittadini delle affermazioni che sono destituite veramente di fondamento. Noi l'abbiamo richiamato, noi siamo assolutamente tranquilli, l'Atari va pagata e va pagata con le tariffe dell'anno scorso.